Le stelle di Azus Tutti i rapporti personali, avete bisogno di tranquillità visto che ultimamente siete stati nervosi, gemelli, non è il momento di fare pazzia in campo economico, mercurio è in posizione complicata e tutto deve essere trattato con estrema prudenza. Cancro, siete reduci da due giorni molto pesanti in cui avete dovuto fronteggiare più di qualche problema sul lavoro, ora avete la possibilità di tirare il fiato. Leone, la pressione di Marte si farà sentire ancora per qualche giorno, in amore tira aria di crisi ma mercurio rende positivo ogni cambiamento. Vergine e Venere può rendere più vivi i rapporti sentimentali aggiungendo un pizzico di Eros. Sul lavoro ci sono ancora parecchie difficoltà da superare. Bilancia, dovete pensare soprattutto al lavoro, mercurio è in una posizione favorevole e va sfruttato al massimo nelle prossime settimane per raggiungere un obiettivo. Scorpione, si pronuncia una serata intensa sia per l'amore che per i rapporti familiari. All'improvviso riscoprirete il piacere di trascorrere più tempo con i vostri cari. Sagittario, il momento giusto per affrontare discorsi economici sia in famiglia che sul lavoro. Mercurio vi vuole disponibili agli spostamenti e ai brevi viaggi. Capricorno, vi manca sempre un po' di ottimismo per ottenere risultati brillanti sul lavoro. La luna in pesci però può rendervi la vita molto più facile. Acquario, la giornata inizierà sotto i migliori auspici, sarete molto motivati e il vostro fascino non passerà inosservato. In serata sentirete il bisogno di rallentare. Pesci, con questo mercurio dovete fare molta attenzione alle questioni finanziarie, professionali ma anche personali. Nel matrimonio potrebbe scapparci qualche parola di troppo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus. Grazie. Grazie. Grazie.